Allora, se ci può spiegare in cosa consiste il gruppo di lavoro sulla biografia cilicena, quali sono gli obiettivi e su cosa state lavorando? Il gruppo di lavoro è stato istituito nel 2008 e è partito in seno alla direzione cultura e poi ha via via integrato all'interno persone che lavorano all'interno dei lavori pubblici, dei trasporti, piano piano anche del turismo e quindi stiamo arrivando proprio ad un gruppo integrato. Siamo partiti dalla cultura nel senso che in primo luogo sono stati tracciati, mappati, identificati tutti i percorsi con una ricerca bibliografica e storica che raccoglieva tutta la grandissima mole di documenti che esistono sul nostro territorio legati alla Francigena. Questo primo progetto, che è stato approvato anche dal Comitato Scientifico della Consulta presso il Ministero dei Beni Culturali e quindi ha avuto un ottimo riscontro in questo senso, è servito anche per individuare effettivamente un percorso fisico sul quale promuovere in effetti un vero e proprio percorso hedonale e fruibile. In questo senso abbiamo innanzitutto individuato i tratti che potevano essere pericolosi e li abbiamo, laddove era possibile, corretti passando dal patrimonio di strade bianche che esiste nel nostro territorio. Quindi in molti casi la Francigena poi via via è diventata la strada romana regio, quindi poi la strada provinciale, quindi con un traffico che non consentiva assolutamente un percorso né pedonale né equestre, come si vorrebbe arrivare ad avere, in sicurezza e quindi sono stati individuati dei percorsi paralleli. Dove questo non era possibile, diciamo che il progetto si è armonizzato con il grande masterplan della regione toscana che ha previsto questo cospicuo aiuto su questo tipo di interventi, quindi la provincia ha partecipato con le proposte di messa in sicurezza di diversi tratti di strade a percorrenza veicolare con i relativi attraversamenti e su questo è stato fatto questo grandissimo lavoro da parte dei tecnici del servizio lavori pubblici della provincia che hanno fornito delle indicazioni anche progettuali che possono diventare veramente un modello anche per questi interventi nel resto della Francigena che sappiamo che parte in Italia dalla Valle d'Aosta e termina a Roma. Ad oggi quindi la situazione è andata molto avanti su questo aspetto anche di messa in sicurezza ma prosegue anche tornando all'origine con la valorizzazione culturale nel senso che è stato istituito presso il ministero anche il tavolo di coordinamento di cui la provincia fa parte per la candidatura della Via Francigena nella lista del patrimonio mondial unesco. Un buon modo appunto per iniziare a portare i pellegrini italiani che spesso vanno all'estero a vivere e camminare in una delle vie più belle penso a un mondo. Assolutamente, tanto è vero che in epoche in cui era più semplice essere iscritti nella lista unesco sono stati iscritti il cammino di Santiago in Spagna che è senza altro di grandissimo valore e anche quello in Francia nel 98 ma la Francigena non ha nulla da invidiare anzi a questi cammini e conserva delle testimonianze di architetture di strada, sono state così definite comunque insomma beni legati proprio al tema del viaggio di valore straordinario e che possono essere senz'altro valorizzati grazie al passaggio della via.